proviamo a riprendere la diretta anche per capire cosa sta succedendo parlavo di Elon Musk ma non credo che ci sia un elemento tale anche perché facebook e meta non sono di Elon Musk quindi non credo che ci sia qualche blocco di qualche tipo allora stavo dicendo ma vi pare mai possibile che alla festa di partito della destra italiana venga invitato un il miliardario americano e ci sta l'uomo più ricco del mondo si dice o uno dei più ricchi che ha posizioni ovviamente magari di destra su alcuni temi però è a favore della liberalizzazione delle droghe leggeri quindi la marijuana è con la posizione sulla fecondazione assistita e l'utero in affitto ha fatto i figli con la fecondazione assistita e l'utero in affitto viene a un convegno della destra italiana e dice agli italiani dovete fare figli poi bisogna capire ma gli asili nido un governo che addirittura aumenta il costo dei pannolini per i bambini può chiamare poi il miliardario che ti dice che bisogna fare i figli che lui li ha fatti con l'utero in affitto che lui li ha fatti anche con la fecondazione assistita che ovviamente fa le auto elettriche e Salvini dice che noi non possiamo usare le auto elettriche perché sono un imbroglio ma in quale manicomio di governo siamo ma di quale manicomio stiamo parlando ma com'è possibile che viene cozzato scontato senza che nemmeno uno ma anche uno di questa destra ma scusate ma qualcuno di fratelli d'italia ha avuto la decenza di alzarsi dire scusate lei dottor musk ci viene a dire di fare i figli come visto che lei è miliardario ha un patrimonio di 200 miliardi di dollari i cittadini che invece addirittura vedono aumentare il costo dei pannolini non hanno gli asili nido non hanno assistenza non hanno innovazione cioè che fanno i cittadini comuni e nessuno sente il bisogno di fare una domanda anche piccola ma che manicomio è questo e che brutta figura proprio da quattro soldi cioè almeno chiamate qualcuno che sostenga le vostre posizioni chiamate qualcuno che sostenga le vostre posizioni non facciamo la figura di essere così rigidi con i cittadini comuni e così affettuosi con il miliardario che dice le cose e pratica delle cose all'opposto di quello che dice il governo di destra ma per favore ma un po' di decenza ma è tanto faticoso veramente tanto complicato cioè parlano di tutto cioè mentre si possono fare una serie di iniziative utili come è possibile che parlano di tutto e parlano a vanvera come è possibile ma salvini ci sta facendo due scatole tante che contro le auto elettriche poi si fa le foto a Elon Musk che è il leader delle aziende produttrice la tesla tanto per cominciare di auto elettriche e ma allora almeno insomma non lo so non dico la coerenza ma un po' di decenza ma che caspita e poi sulle posizioni ripeto stavo dicendo prima che si interrompesse la diretta per wifi ma può essere mai che le posizioni sono così ridicole per cui il papa benedice dice che in chiesa si possono benedire le coppie gay ovviamente non dice di fare il matrimonio ma è ovvio è il papa e quindi mantiene come dire quello che però il papa dice questo invece i parlamentari della destra che si dice cristiana cattolica dio padre famiglia che fanno si inginocchiano avanti al miliardario del dell'utero in affetto vanno a braccetto con gruppi assurdi che sono supposizioni a volte molto molto poco cristiane e poi si dicono cristiani ma almeno la decenza di dire che non sono manco cristiani e basta ma basta ma come si fa a invitare Elon Musk e dopo dire che invece ci vuole il reato universale contro l'utero in affetto e allora come dire dovete bloccarlo Elon Musk almeno non invitarlo al vostro convegno e che diamine lo inviti al convegno e non è che lo inviti al convegno per fare un dibattito un confronto tra opinioni diverse no lo inviti al convegno come star come punto di riferimento e ma è veramente devo dire e il senso della decenza proprio zero non dico la coerenza ma la decenza e ha fatto bene conti a chiedere il giuridonore contro le menzogne e l'altra cosa surreale è ignazio la russa il presidente del senato che sarebbe in italia il vice presidente della repubblica perché in italia se il presidente della repubblica per qualche motivo va all'estero per un evento e c'è qualche emergenza chi prende il posto provvisoriamente il presidente della repubblica è il presidente del senato il presidente del senato contro il quale lui si è schierato nei giorni scorsi lui ha detto che la norma sul premierato era pasticciata e lui preferiva l'elezione diretta del presidente della repubblica evidentemente gli hanno fatto una cazziata esagerata dicendo ma scusa mai parli a bambera hai capito che abbiamo approvato questa legge noi della destra e lo che fa ha messo la toppa peggiore del buco come si dice in gergo no che ha combinato ha detto che i i presidenti della repubblica quindi compreso quello attuale secondo lui sono andati oltre quello che diceva la costituzione quindi che cos'è è un attacco ha detto che il presidente della repubblica è non rispetta la costituzione secondo te che ne pensi stanno preparando le elezioni guarda sicuramente luigi stanno preparando le elezioni europee ma se le preparano così io spero che i cittadini come dire li boccino sonoramente perché come le elezioni le preparano come chiamano Elon Musk che ha queste posizioni e chiamano il miliardare non danno una lira un euro per le famiglie più povere oggi i dati di banca d'italia parlano di 900 mila famiglie quindi due milioni di persone almeno che non avranno nessun aiuto rispetto alla povertà cioè queste sono le cose che succedono ora io spero che le liste le candidature che si presenteranno all'opposizione e in alternativa a queste destre siano credibili e forti perché il rischio qual è il rischio non è che loro prendano tanti voti e che tanta gente non va a votare e allora quei pochi che continueranno a votare a destra conteranno di più perché è chiaro che se vota non il 60 per cento non il 50 ma il 30 per cento dei cittadini allora certo fratelli italia può riprendere i voti ma non è che prende voti assoluti non prendi voti ai cittadini in percentuale se la gente si schifa e non va più a votare aumentano la forza di chi ha voti controllati voti di appartenenza voti mafiosi voti di corruzione voti di mal costume e anche voti di convinzione di gente che sarebbe una minoranza ma se la maggioranza non va a votare quella minoranza ha un peso importante allora le europee saranno un banco importante ma bisogna vedere quanta gente va a votare perché queste cose che fa il governo sposta la gente verso il non voto la gente non va a votare perché considera alla fine il discredito va su tutti i partiti anche su quelli che si stanno comportando meglio perché chiaramente è una sceneggiata loro ti bombardano la testa di di chiacchiere di idee un giorno il ponte un giorno il nucleare e un giorno chiama le non masche e poi gli dicono quello e un altro giorno va in aula e dice sul messo l'opposto ma se si arriva che una persona come conte che tutto si può dire meno che sia un estremista o uno particolarmente ma se conte è costretto è costretto a ricorrere al giuridio d'onore per riportare un po di verità nel dibattito parlamentare significa che siamo inguaiati siamo inguaiati capito siamo inguaiati poi non so se hanno fatto votare in sicilia i morti ma sicuramente il fatto che la gente lavori in nero che il governo abbia affossato il salario minimo che non abbiano fatto che abbiano tolto i soldi alla sanità o meglio ridotti gli aumenti fondamentali per mantenere la sanità a un livello fanno finta che non c'è il covid mentre a livello internazionale nazionale si dice che c'è un problema di aumento di una serie di fattori non hanno fatto la campagna per fare vaccinare le persone anziane abbiamo centinaia e centinaia di morti tra gli ottantenni in Italia c'è l'allarme mondiale sul morbillo che riguarda anche l'Europa fatto dall'organizzazione mondiale della sanità ma non c'è nessuna azione nessuna campagna nessuna iniziativa c'è un aumento del 3.000 per mille del 3.000 per cento del morbillo nessuno ne parla tutti zitti si deve parlare a capocchia del nucleare che non ci sarà perché non lo faranno ci bisogna parlare del ponte sullo stretto che non riusciranno a fare se non buttare soldi in progettazione imbruogli e cose casino e chissà quando sarà e le cose invece che si devono fare che sono per esempio sistemare le dighe che sono per esempio sistemare le frane che sono per esempio aggiustare le strade le ferrovie i ponti ci sono tantissimi lavori da fare ci sono i soldi questo che è una cosa che ti fa girare le palle cioè i soldi del pnr ci sono e si rischia di non utilizzare o di rimandare indietro perché questi stanno buttando il tempo a discutere a litigare su tutto e non governano il paese questo è il dramma ma questo è il dramma è una vergogna la melone ha detto che toglierebbe altri mille volte il reddito che grande che grande genio cioè ridurre queste frasi è veramente indecente va bene io credo che oggi siamo stati un poco come dire danneggiati dagli alti e bassi della linea quindi mi dispiace per chi non è riuscito a seguire vi chiedo di scrivervi sempre sul gruppo ecodigital verso il 2050 sono oltre 4000 di voi che sono aderenti ma è importante essere attenti perché attraverso il gruppo vi possiamo mandare notizie dare informazioni e pian piano creare anche una capacità di come dire di moltiplicare i vostri sforzi per un'operazione di verità per un'operazione di verità dobbiamo dire le cose come stanno e dobbiamo confidare sul fatto che più le estendiamo queste cose più faremmo assolutamente cose buone quindi vi ringrazio ringraziamo letta 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 è un altro disastro letta è un altro disastro se sembra una persona reale beh ringrazio luigi è una persona reale in un paese di tutta tutta gente come dico tanta gente finta non tutti perché sono pure quelli bravi per fortuna essere un po reali non è male oggi come vi dicevo visto la raggi abbiamo fatto un incontro sui temi della sostenibilità della transizione ecodigital quindi io cerco comunque di continuare a costruire sempre più una rete tra le persone che vogliono veramente lavorare per il cambiamento e dobbiamo confidare guardate anche quando si vede che è buio dopo il buio c'è sempre come dire il sole quindi anche se questo è un periodo abbastanza buio perché il governo veramente ne fa di tutti i colori prevalentemente colori grigio e neri diciamo così e veramente dobbiamo essere molto determinati ed aiutare le opposizioni a cominciare da conte ma la capacità anche dei cittadini dei gruppi delle realtà civiche dei consiglieri degli assessori dei comuni perché tante realtà si muovono per fortuna e stanno cercando di creare un paese migliore se no staremmo inguaiati dobbiamo fare in modo che queste persone non si sentano sole e che si entrano in rete questo è il nostro compito aiutarli voi io vi chiedo anche sulle cose belle che vedete che alcuni consiglieri alcuni amministratori fanno voi dovete su queste cose mettere i like incoraggiate le persone brave perché a volte anche il semplice like che gli mettete ad alcuni che fanno cose buone può essere un segno importante di incoraggiamento io vi do un saluto mi dispiace che la diretta è stata un po incasenata ma ci rifacciamo domani ciao ciao